David Messina, vicepresidente del circolo della stampa di Milano. Come nasce la collaborazione con l'Italy-China Friendship Association? Nasce dall'amicizia, oggi si è molto parlato di amicizia anche qui in regione Lombardia e io dico che l'amicizia è figlia della conoscenza, cioè io non posso essere amico di una persona, voglio essere tuo amico ma dopo che ho capito che sei una bella persona, intelligente, affascinante, colta eccetera. Allora anche l'amicizia tra i popoli nasce e deve nascere innanzitutto dalla conoscenza. Allora noi stamattina al circolo della stampa abbiamo fatto una operazione e abbiamo lanciato un'operazione di conoscenza tra i due popoli, tra l'Italia e la Cina. Io ricordo sempre ai miei interlocutori che la Cina è un paese di un miliardo e 600 milioni di abitanti, dei quali ancora il 60% non ricchi, ma il 40% ricchi. Allora 40% di ricchi da un miliardo e 600 milioni sono più di 500 milioni di persone, cioè più di tutti i popoli dell'Europa messa insieme. Allora la Cina è questa, è un paese straordinario, io ho avuto il piacere di conoscere la fortuna, è un paese straordinario. Allora se noi cominciassimo a far capire ai cinesi che siamo il paese che ha il 60% del patrimonio artistico del mondo e che quindi se loro vengono in Italia possono imparare tante cose e possono amare l'Italia, come noi a poco a poco cominceremo ad amare la Cina, avremmo già risolto almeno minimo il 50% dei problemi dell'Italia, perché qui il turismo per l'Italia è tutto. Allora se dalla Cina ci sono 500 milioni di potenziali turisti, ma li vogliamo conquistare almeno il 10%, il 10% sono 50 milioni che possono cominciare ad arrivare in Italia, non nel 2015 quando ci sarà l'Expo, ma subito da quest'autunno del 2013, nel 2014, poi nel 2015 ne arriveranno magari il doppio, ma dobbiamo partire subito a far capire ai cinesi che il loro è un paese straordinario, che noi abbiamo conosciuto già con Marco Polo, siamo stati i primi a scoprirli con Marco Polo, quindi lo amiamo, ma vogliamo che anche la Cina ami l'Italia. Si è parlato anche di una collaborazione tra il Circolo della Stampa, i CFA e i media cinesi, quindi la stampa cinese, cosa si può fare? Il Circolo della Stampa, io sono non soltanto il Vice Presidente del Circolo, ma sono il Presidente della Fondazione Circolo della Stampa e questo accordo che abbiamo fatto stamane lo ha firmato anche la Presidentessa del Circolo della Stampa, che è una collega, Daniela Stigliano, e soprattutto il Presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti, cioè del sindacato importante dei giornalisti lombardi. Allora, queste tre firme che ci sono nell'accordo fatto tra noi, sono tre firme importanti che possono davvero promuovere una serie di rapporti con la Cina, innanzitutto di comunicazione, quindi di conoscenza, quindi di amicizia e poi tante altre iniziative, comprese, come io auspico, una grande trasmissione televisiva che parta dall'Italia e raggiunga i telespettatori di questo immenso e bellissimo Paese che è la Cina. Perfetto.